salve a tutti ragazzi e benvenuti al mio nuovo tutorial benissimo visto che siamo ancora in questo periodo di natale ho deciso di fare un altro tutorial su natale cosa andremo a fare oggi oggi andremo a fare una foto dentro una foto animata con la neve animata cosa che non ho mai visto in altri tutorial qui in giro sul tubo quindi cosa facciamo apriamo il nostro solito photoshop clicchiamo su file apri e andiamo a sceglierci un'immagine che più ci piace magari inerente dopo a farla innevata io scelgo questo questa immagine qui che dopo comunque vi posterò sotto in descrizione se volete copiarla eccola qui ingegniamola dunque partiamo con il nostro tutorial ovviamente se non avete aperta la finestra livelli cliccate su finestra andate su livelli e aprite la finestra dei livelli cosa dobbiamo fare dobbiamo copiare il nostro livello di sfondo quindi ctrl j oppure ci portiamo direttamente lo sfondo tenendolo cliccato su questa iconcina qui e abbiamo aperto abbiamo copiato il nostro sfondo la nostra immagine ora cosa andremo a fare la nostra immagine andremo a modificarla quindi modifica trasforma scala tenendo premuto sempre shift altrimenti andremo a distorcere magari l'altezza la larghezza invece così rimane stabile andiamo a rimpicciolire la nostra immagine dobbiamo centrarla per vedere se può andare bene può andare abbastanza bene clicchiamo invio così da deselezionarla benissimo adesso cosa dobbiamo fare gli facciamo una bella cornice effetto natalizia quindi andiamo ancora su sfondo clicchiamo su nuovo livello prendiamo andiamo a cliccare sul tasto selezione rettangolare e ci andiamo a fare una piccola cornicetta alla nostra foto dopo capirete perché benissimo una volta fatto il nostro rettangolo andremo a mettere in primo piano il bianco secchiello clicca riempio selezione di selezione abbiamo la nostra cornicetta quindi livello 1 tasto destro del mouse unisci sotto e abbiamo la nostra foto con la cornice aspettate adesso faremo la nostra come dicevo prima cornice natalizia andate su intanto vi lascerò in descrizione il set di pennelli che userò adesso quindi andate su pennelli e avrete anche voi una volta scaricati questa serie qui di pennelli cosa andremo a fare noi andremo a prenderli e a metterli come più ci piace ci facciamo sempre prima un nuovo livello scusate da sfondo nuovo livello vuoto clicchiamo possiamo scegliere tutte le forme che vogliamo quelle che più ci piacciono possiamo fare tutto possiamo sbizzarirci come vogliamo se vogliamo fare una cosa così 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 cosa così ecco dopo voi potete fare tutto quello che volete io adesso lo faccio in velocità anche per fare un po' prima benissimo una volta fatto andremo sempre sul livello 2 clicc destro col mouse unisci sotto così avremo sempre un unico livello della nostra cartolina clicchiamo due volte sulla selezione del livello si aprirà questa finestra aggiungeremo un'ombra esterna quindi clicchiamo ombra esterna clicchiamoci un'altra volta per aprire qui la nostra selezione mettiamola come più ci piace una cosa così può andare bene non deve essere troppo visiva clicchiamo su ok e avremo la nostra cartolina interna mi sembra bellissima ora cosa andremo a fare modifica trasforma ruota e ci voltiamo la nostra figura spostiamo anche un po' clicchiamo invio per selezionare ho lasciato un po' più di spazio sotto perché se vogliamo scriverci delle cose possiamo scriverci tranquillamente quindi ci apriamo andiamo su sfondo clicchiamo sul livello testo apriamo il nostro testo io lo scrivo di un colore visto che siamo sul blu mi avvicino più ecco un colore come questo dopo voi potete fare qualsiasi cosa che volete con qualsiasi font e scrivo buon natale clicco su un livello 3 e ho la mia scritta arrivato su la scritta buon natale tasto per strumento sposta e mi posiziono la mia scritta benissimo ora arriva il punto clou cioè creare un'animazione solo all'interno di questa foto cioè fare un effetto nevicata solo a questa foto quindi cosa andremo a fare andremo intanto su finestra se non avete aperto questa selezione qui di azioni andiamo su finestra azioni e si aprirà questo che noi andremo a cliccare vedrete che qua troverete poi tutti degli effetti che vi faranno se non trovate bufera di neve andate su questo pulsantino qui e andate su effetti immagine e troverete e vi verrà fuori bufera di neve ma prima di andare su bufera di neve dobbiamo fare un'altra cosa dobbiamo fare un altro livello vuoto lo riempiamo di bianco e ci clicchiamo su e ci clicchiamo su niente paura non vi preoccupate adesso vedrete perché quindi andremo sul nostro azioni bufera di neve play e photoshop si elaborerà la nostra bufera di neve allora cosa facciamo qui possiamo anche chiudere prendiamo il livello 4 che non ci interessa più e lo buttiamo nel cestino vediamo che photoshop ha selezionato tutta la nostra cartolina ma noi vogliamo solo questo pezzettino qui quindi cosa faremo andremo a fare una selezione di solo questo pezzo andremo a fare praticamente una maschera di ritaglio adesso vedrete cos'è la maschera di ritaglio praticamente io schiaccio alt vado in mezzo tra i due livelli e clicco col pulsante sinistro del mouse e come vedete per magia viene selezionata solo la parte della cartolina interessata cioè mi seleziona solo quello che io desidero quello che ho nel livello sottostante benissimo adesso vogliamo animarla noi però questa neve quindi cosa facciamo apriamo finestra animazione e ci comparirà la nostra animazione se non abbiamo animazione in fotogrammi come dicevo nel tutorial precedente andiamo su converti in animazione fotogrammi invece se vedete la timeline sarà converti in animazione timeline e viceversa e avrete la vostra parte qui di animazione quindi ora cosa faremo andremo a animare la nostra foto deselezioniamo anzi selezioniamo il livello 4 copia e ce lo portiamo giù su questi concini per doppiarlo deselezioniamo quello che è livello 4 copia primo e andiamo col tasto sposta a spostarci un po' la nostra neve stessa cosa livello 4 copia 2 ce lo copiamo deselezioniamo e spostiamo stessa cosa livello 3 copio deseleziono e sposto dico che 4 possono già andare bene benissimo adesso dobbiamo animarla quindi cosa facciamo andiamo a prenderci il nostro livello e fare la stessa cosa copiarlo qui dentro qui ci dovrebbe essere scritto sempre se non c'è scritto sempre andiamo sull'icconcino e ci mettiamo sempre e qui ci mettiamo un bel 0,1 a tutte le nostre figure deselezioniamo questo occhio e prendiamo quest'altro e copiamo facciamo la stessa cosa con il livello 4 copia 3 e copiamo stessa cosa con il livello 4 copia 4 e copiamo e adesso vediamo come cosa si è saltato fuori facciamo una prova e come vedete avremo la nostra immagine molto carina come potete vedere la neve è solo nella nostra foto benissimo fermiamo un'altra cosa se vogliamo possiamo anche fare uno sfondo un po' più chiaro quindi andremo su sfondo nuovo livello vuoto ci prendiamo in primo piano il bianco riempiamo quel secchiello e andremo a lavorare sull'opacità ecco fatto benissimo questo è tutto ragazzi mi sembra un bel tutorial come qui potete sbizzarrirvi come volete mettere mettere anche le vostre foto mettere un paesaggio per dirvi estivo e un invernale all'interno potrete animare anche la scritta facendogli delle stelline potete fare quello che volete quindi questo mio tutorial oggi è finito vi ringrazio vi aspetto per il prossimo tutorial se il tutorial vi è stato utile e vi è piaciuto mi piacerebbe se cliccaste su mi piace e che dirvi tanti auguri di buon natale ragazzi ciao ciao